Allora, voi non ci crederete, ma quest'anno al Caminamolise abbiamo riesumato Nino Taranto! Ah, il grande! Nino Taranto, come mai anche tu al Caminamolise? Prego, sulla camera. Sulla camera 1, Nino Taranto. Sforzi, si sforzi. Sei stato riesumato apposta per finire al Caminamolise. Sì, ma avete preso la sprovvista. E la paglietta è la stessa, degli anni d'oro? La paglietta di ciccio formaggio. Conservato, questi anni. Ma è la stessa di ciccio formaggio? Sì, sì. Rigorosamente. Invernata, è sempre l'ora di pranzo. E infatti, si sa un po' di formaggio. Io a Paurelio Piero e anche al Caminamolise Nino Taranto. Nino Taranto!